Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video nel quale vi farò vedere come riesco a far deporre le mie quaglie sempre nello stesso punto. Iniziamo! Le quaglie sono un animale che depongono un po' dove gli capita e questo può risultare scomodo per chi le alleva perché ogni volta deve andare a cercare le loro uova. Ma con questo video non sarà più un problema. Musica Andiamo a prendere del fieno e a spargerlo in questa maniera solo da una parte del box l'altra la lasciamo libera solo con la segatura poi andiamo a creare una sorta di nido in una parte e un assorto di nido da quest'altra parte poi per stimolarle ancora di più ad andare in questi punti a deporre andiamo a mettere delle uova finte in questo modo così le quaglie andranno sicuramente a deporre qui e per farle andare ancora più volentieri lì basterà mettere un pannello lì sopra in modo da farle sembrare ancora di più in un nido Ragazzi mi raccomando se il video vi è piaciuto non dimenticate di mettere mi piace di iscrivervi al canale e fate anche un salto sul mio profilo Instagram che si chiama come il titolo del canale YouTube Ciao